Ben trovati sul mio canale di YouTube, oggi a 365 giorni di distanza, più o meno, dall'apertura del mio progetto editoriale di vlogging. Voglio tirare un po' le somme, in un anno sono successe tante cose, ne succederanno altre tante, io sono qui per raccontarvele. Questo per me è una sorta di traguardo, perché riuscire a parlare di politica internazionale in questi toni, con obiettività, non è da poco, non accade dovunque, e lo devo soprattutto alla mia community, che non mi fa mai mancare critiche lì dove servono, consigli, spunti e complimenti lì dove invece li merito. Tutto questo significa per me moltissimo, ma soprattutto significa che c'è spazio per un giornalismo sano, ed è per questo che voglio lanciare la rubrica Grandangolo, una messa a fuoco obiettiva sul mondo, per riuscire a capire e a meglio comprendere tutto quello che ci circonda. Prima di lasciarvi vi chiedo se vi piace il mio entusiasmo, se condividete la passione per la politica internazionale e per la comunicazione in generale, di farmi sapere qual è il vostro punto di vista, o magari chissà consigliarmi qualche spunto. Da Roma è tutto, un abbraccio, Guglielmo.